bravo forza Gaetano dai buon gentrato bravo Grazie. 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 Occhio, occhio e respira. Respira, respira, una detretta. Oh, la sta spingendo. Guarda un passo indietro alla parte. Un passo indietro alla parte. Guarda la rotazione della nave. Forza che hai dato. Respira, respira, batti tu. In avanti il colpo. Secondo in avanti. Bravo. No, selezioni attacca. Direzione attacca. Direzione attacca. Giù con le gambe. Guarda giù. Flessibile e pronto a portare. Nooo. 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 Ok. Nooo. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.